bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie la storia di cui parleremo oggi è una storia estremamente misteriosa ve ne voglio parlare da quando ho aperto il canale in realtà non so perché non l'ho fatto prima sembra la trama di un film eppure è tutto vero ma la cosa peggiore è che purtroppo non ha una vera e propria conclusione questo video vi lascerà con la testa in un frullatore sono infatti veramente curiosa di leggere i vostri commenti perché questo è uno di quei casi che non mi fanno dormire la notte ho provato a pensare a qualsiasi soluzione possibile ci hanno provato i familiari della persona di cui parleremo ci hanno provato addirittura le persone dell'internet per anni ormai e nessuno ci è mai arrivato quindi vabbè fatemi raccontare la storia e poi magari proviamo a ragionarci insieme oggi parliamo dell'assurda e inspiegabile sparizione di rai rivera ma prima di cominciare amici datemi un minuto per ringraziare lo sponsor di oggi uno bravo se mi seguite qui ma soprattutto su instagram dove parlo un po di più di me e della mia vita sapete quanto sia importante per me l'andare in terapia perché a me ha letteralmente salvato la vita e non smetterò mai di consigliarlo a chiunque io conosca gennaio è il mese dei buoni propositi il mese dei nuovi inizi ma la fine delle vacanze natalizie e il ritorno alla routine può farci rendere conto che le cose non sono cambiate che sono rimaste esattamente le stesse di prima delle vacanze spesso infatti a gennaio si parla di blue monday il giorno più triste dell'anno che tra l'altro nel 2024 è stato lunedì scorso lunedì 15 perché intorno a questo periodo appunto magari si realizza che non siamo riusciti a tener fede i buoni propositi magari abbiamo già sgarrato qualche volta o ci rendiamo conto di esserci prefissati degli obiettivi troppo ambiziosi e può capitare di sentirsi demotivati con questa campagna uno bravo vuole infondere speranza alle persone incoraggiarle a credere che questo possa essere l'anno in cui le cose vanno meglio del previsto l'importante è iniziare e farsi parte attiva della svolta che desideriamo per noi stessi e uno bravo può essere la spalla fidata che ci accompagna nel nostro percorso uno bravo offre un supporto terapeutico affidabile competente ed empatico per aiutare le persone nel raggiungimento del loro benessere psicologico e nella loro crescita personale grazie ai più di 4500 terapeuti che collaborano al servizio di psicologia online uno bravo avrete modo di trovare lo psicologo più adatto alle vostre esigenze reali infatti uno bravo mette anche a disposizione un questionario mirato da compilare prima di iniziare proprio per capire le vostre esigenze così da trovare subito il terapeuta più adatto a voi tra i loro professionisti inoltre il primo incontro conoscitivo con il professionista a cui sarete associati è totalmente gratuito vi lascio come sempre il link per la compilazione del questionario sotto nella descrizione del video e non dimenticate che con il codice elisa 10 per 3 avrete il 10 per cento di sconto sulle prime tre sedute a pagamento lo sconto è valido solamente per i nuovi utenti del servizio mi raccomando prendetevi sempre cura di voi e ora torniamo alla storia di oggi rey rivera nasce il 10 giugno 1973 a madrid nasce in una base aerea militare perché suo padre angel o angel presumo si pronunci perché sono puertoricani lavora e vive lì in questa base insieme a sua moglie maria e al loro secondo figlio che si chiama anche lui come il padre quindi angel la famiglia rivera è originaria di puerto rico ma qualche anno dopo decidono di trasferirsi negli stati uniti precisamente a winter park una cittadina una città della florida rey fin da piccolo ha una forte personalità è un bambino molto attivo curioso e molto intelligente rey ama da sempre gli sport gioca a basket ma lo sport di cui si innamora perdutamente è pallanuoto all'inizio gioca a pallanuoto nella squadra della sua scuola del suo liceo ma crescendo intorno a lui si accorgono del suo grande talento tanto da farlo entrare proprio in squadre di pallanuoto professionali e tanto da fargli ottenere una borsa di studio per la university of pacific a stockton in california all'università rey si specializza in letteratura inglese perché un'altra cosa di cui è estremamente appassionato è la scrittura rey ama scrivere ed è una persona molto creativa che ama anche il cinema infatti la cosa che più gli piace scrivere sono proprio le sceneggiature e sogna di poterne trasformare una in un film un giorno dopo la laurea nel 1996 rey addirittura viene accettato nella squadra di pallanuoto olimpica quindi avrebbe avuto l'opportunità di partecipare alle olimpiadi estive del 1996 che si sarebbero tenute ad atlanta in georgia ma purtroppo per un brutto disaccordo con il coach della squadra di cui non si conoscono i dettagli rey viene cacciato dalla squadra e quindi perde quest'occasione per sempre ma lui non si fa buttare giù da questo decide di trasferirsi a los angeles e decide di rincorrere la sua altra passione ovvero la scrittura di sceneggiature e non c'è posto migliore al mondo in cui essere uno sceneggiatore se non a los angeles no il suo piano quindi è quello di scrivere una sceneggiatura di trovare qualche produttore cinematografico che sia interessato a comprarla e a trasformarla in un film ma per fare questo deve nel frattempo guadagnarsi da vivere in qualche modo perché si sa la vita a los angeles è piuttosto cara infatti rey fa ben tre lavori per poter tirare avanti la sua vita procede in questo modo fino a che nel 2000 conosce una donna di nome ellison jones di cui si innamora perdutamente i due hanno tantissime cose in comune anche ellison è una donna che ama gli sport anche lei ama scrivere i due hanno una relazione per qualche anno e poi nel 2004 rey le fa la proposta è sicuro di voler passare il resto della sua vita con lei i due vivono sempre a los angeles però vivono con difficoltà rey continua a fare tre lavori mentre ellison lavora come una sorta di consulente finanziario per le aziende e per carità non è che proprio non riescano ad arrivare a fine mese però ci arrivano appena e loro vorrebbero tanto appunto sposarsi organizzare un matrimonio da favola vorrebbero comprare una casa tutta per loro fare dei figli allargare la loro famiglia quindi hanno bisogno di più soldi ed è proprio a questo punto che appare un uomo non è chiaro se sia rey a chiedere aiuto a lui o se sia lui ad aver offerto aiuto a rey fatto sta che il suo nome è frank porter stansbury ma noi lo chiameremo solo porter perché tutti lo chiamano così porter è un grande amico di rey sin dai tempi del liceo i due infatti giocavano nella stessa squadra di pallanuoto al liceo e poi erano sempre rimasti più o meno in contatto porter è un uomo d'affari diciamo così e come dicevo non è chiaro se rey abbia chiesto o se sia stato porter a farsi vivo fatto sta che porter propone a rey un'opportunità lavorativa molto molto allettante cioè non molto allettante per il lavoro in sé ma per il fatto che gli avrebbe fatto guadagnare molti soldi prima di spiegarvi di quale proposta si tratti però devo necessariamente fare un attimo un passo indietro per spiegarvi che lavoro fa porter perché capire il mondo lavorativo di porter è essenziale per provare a capire che cosa succederà dopo quindi provate a seguirmi ci addentreremo un attimo nel mondo finanziario mondo di cui io non capisco assolutamente nulla quindi spero di aver capito tutto e di riuscire a spiegarvi tutto correttamente se non dovesse essere così lasciate dei commenti correggetemi per favore dunque porter è una figura un po controversa si ritiene un uomo che si è fatto da solo lui non viene da una famiglia facoltosa si è dovuto inventare il lavoro praticamente e dice di essersi creato quella che poi è diventata una carriera milionaria seduto ad un tavolo da cucina nel suo monolocale brutto nella zona brutta di baltimora in cui viveva quindi dice proprio di essere nato dal nulla dunque lui dice che subito dopo la laurea ha iniziato a lavorare in una compagnia di nome agora di un certo william bonner detto bill bill bonner bill bonner aveva fondato agora nel 1978 come una piccola casa editrice e la sua intenzione era quella di pubblicare idee e opportunità riguardo qualsiasi cosa business finanza investimenti viaggi voleva focalizzarsi però su quelle opportunità o quei consigli che non trovi sui media tradizionali in 1978 bill bonner started his research firm agora inc since then he and his team have exposed and predicted the world's most disruptive events today bill's firm is the largest underground research network on the planet and more people follow agora's work every day quindi come funzionava che tu ti abbonavi pagavi una quota un abbonamento mensile settimanale non lo so e ogni settimana ti arrivavano queste newsletter con appunto consigli su quali viaggi fare o quali sono i posti più convenienti in cui comprare degli immobili oppure che ne so quali titoli in borsa comprare nel frattempo questa azienda agora è cresciuta in modo incredibile con abbonati in tutto il mondo e sedi che aprono in tutte le città più importanti ci sono sedi di agora a parigi a londra a melbourne nel tempo agora diventa come un grande ombrello sotto il quale nascono tante altre filiali tra queste troviamo la royal society of lixton che ha a capo due uomini joel nadell e mark ford anche questa compagnia mandava queste newsletter con questi consigli super segreti su come fare un mare di soldi su come investire su cosa investire per esempio ad un certo punto la royal society manda una newsletter a tutti i suoi abbonati con scritto che una compagnia di nome gold corp aveva trovato il modo di trasformare la sabbia di una spiaggia di puerto rico in oro trasformavano la sabbia in oro e a quanto pare questa newsletter e tutta questa storia è stata molto convincente perché moltissimi investitori hanno investito tantissimi soldi ma alla fine guarda un po' era tutta solo una grossa truffa pensate che quando è venuto fuori che fosse una truffa nell'aprile del 91 il governo ha congelato 6.6 milioni di dollari dai beni di joel nadell il presidente della royal society e ad agosto quindi pochi mesi dopo il presidente della gold corp è stato trovato in casa sua morto con una pallottola dietro la nuca alcuni pensano che lo abbiano ucciso altri pensano che si sia tolto la vita non si sa non è questo il punto del video anche se di queste compagnie un po' truffaldine ci sarebbe veramente un mondo da raccontare mi sono imbattuta durante le ricerche in blog di persone che ne facevano parte che raccontano cose inquietanti c'è veramente un mondo che da un non so che di losco ho ancora tantissimo da dirvi quindi volevo giusto accennarvi qualche cosa su queste compagnie senza addentrarmici troppo giusto per farvi capire il contesto in cui ci infileremo e in cui si infilerarei più in là nel video quindi andiamo avanti dopo questo incidente di percorso diciamo così la royal society decide di cambiare nome e di far finta che nulla sia mai successo cambiano nome in the oxford club e questa è la compagnia per cui inizia a lavorare il nostro porter l'amico direi che gli offre una grande opportunità di cui vi parlavo prima porter lavora per un anno nel oxford club che esattamente come the royal society manda newsletter agli abbonati su come fare soldi su come pagare meno tasse su come aprire conti in banca in quei posti in cui non si pagano le tasse tipo la svizzera o dubai e dopo un anno così porter decide di aprire la sua filiale quindi un'altra filiale che ricordate sta sempre sotto a quel grande ombrello che è agora porter apre la sua filiale che si chiama pirate investor llc e anche questa fa la stessa cosa di tutte le altre quindi manda newsletter con consigli finanziari ma anche qua queste newsletter sono sempre un po al limite della truffa e qualche volta sono proprio delle vere e proprie truffe punto e basta per esempio nel 2002 porter manda una di queste newsletter a tutte le persone abbonate che erano tantissime erano centinaia di migliaia di persone e in questa specifica newsletter scrive che aveva avuto una soffiata da qualcuno che lavorava in borsa che gli aveva confidato che le azioni di un'azienda in particolare stavano per salire alle stelle quindi era il momento giusto di investire su quella compagnia porter però in questa newsletter scrive chi vuole sapere il nome di questa compagnia in cui investire deve scrivermi privatamente e deve pagare mille dollari in più quindi mille dollari in più rispetto all'abbonamento che già queste persone pagavano e quindi lui scrive voi mi pagate questi mille dollari e io vi manderò una mail apposita in cui vi darò tutte le informazioni a riguardo e oltretutto spaccia questa come una notizia sicura come dei soldi assicurati e a questa cosa credono ben 1200 persone quindi fate un po il calcolo 1200 persone pagano alla compagnia di porter mille dollari 1200 per mille fa un milione e 200 mila dollari questi sono i soldi che lui fa da questa mossa inutile dirvi che non è successo quello che lui diceva che sarebbe successo e perché vi dico che è al limite con la truffa perché si sa che il mercato è imprevedibile quindi uno può sempre dire ops e vabbè ma può capitare che le visioni non vadano come previsto non è colpa di nessuno e cavarsela così per fortuna in questo caso interviene la sec che sarebbe l'agenzia federale che è responsabile della regolamentazione e della vigilanza dei mercati finanziari e degli investimenti che intenta una causa alla compagnia di porter accusandola proprio di truffa finanziaria ma porter nonostante questo non molla decisamente non sa quando dire basta e nel nel 2011 infatti anche se questo è un po fuori contesto rispetto al video perché il 2011 è molti anni dopo la storia di cui parleremo oggi ma sempre per farvi comprendere questo personaggio no porter porter nel 2011 pubblica un video che ad oggi è praticamente introvabile perché è stato eliminato proprio dalla sec in cui avvisava le persone di un'imminente crisi globale allucinante ma una crisi proprio tipo quella del film non so se l'avete visto il mondo dietro di te il mondo dietro di noi non mi ricordo quindi un collasso totale così violento che consigliava alle persone di rifugiarsi in un bunker anti atomico e di prepararsi una scorta di acqua e cibo per almeno sei mesi comunque tornando a noi e alla nostra storia porter che comunque con questi suoi mezzi sta guadagnando una valanga di soldi lui e tutti i suoi colleghi che lavorano per agora a questo punto della storia nel 2004 come dicevo prima offre un lavoro al suo amico ray gli offre un lavoro come scrittore per la sua compagnia di newsletter quindi lui doveva scrivere le newsletter ray non ama l'idea di questo lavoro perché a differenza dell'amico lui non ne capisce nulla di soldi di investimenti quindi sente che non può essere il lavoro giusto per lui ma porter insiste perché è convinto che farà comunque un buon lavoro perché lui come colleghi voleva persone carismatiche brillanti sveglie non gli importa che siano delle schegge con i numeri e secondo lui ray era tutto quello che stava cercando gli propone però all'inizio un progetto a breve termine un lavoro di soli 30 giorni presso una delle filiali di agora a baltimora e alla fine ray decide di accettare perché come vi ho detto lui e ellison avevano bisogno di soldi e decidono che alla fine era una cosa fattibile farlo per soli 30 giorni magari avrebbero guadagnato anche solo i soldi necessari per organizzare un bel matrimonio dato che comunque porter prometteva tanti soldi ray quindi si trasferisce a baltimora e va a stare al peabody hotel che dista circa un chilometro e mezzo dalla sede di agora durante questo mese quando può vola a los angeles per andare a trovare ellison e viceversa anche lei quando può va a trovarlo ma alla fine questi 30 giorni di lavoro diventano tre mesi e questi tre mesi diventano due anni porter infatti dopo aver convinto ray a rimanere per altri tre mesi gli aveva offerto la sua personale newsletter finanziaria alla sua filiale la filiale di agora in cui quella di porter quindi la pirate investment llc e gli offre questa newsletter chiamata the rebound report quindi questa newsletter dava consigli finanziari a quelle compagnie che non stavano andando molto bene che avevano bisogno di reinventarsi di rimettersi in sesto la paga è decisamente buona quindi dopo qualche riflessione rai decide di accettare ma con ellison decidono anche di non voler più vivere separati quindi lei si trasferisce a baltimora e lì comprano una casa la giovane coppia ha un piano sarebbero rimasti a baltimora e rai avrebbe continuato a fare quel lavoro che non amava per massimo due anni e avrebbero messo da parte quanti più soldi possibili e poi sarebbero tornati in california questi due anni passano in modo abbastanza sereno si rai continua a non amare quel lavoro si sentiva anche un po truffaldino se vogliamo dato che dava consigli finanziari senza capirne una mazza di finanza ma diciamo che lui e ellison trovano il loro equilibrio fanno nuove amicizie rai ricomincia anche a giocare a pallanuoto nel tempo libero e un'altra cosa che rinizia a fare e scrivere rai inizia a scrivere una sceneggiatura cosa che come sappiamo amava davvero fare quindi ritrova un po le sue passioni e il 5 novembre 2005 ray e ellison finalmente si sposano e il matrimonio è a dir poco meraviglioso i due si giurano amore eterno su una bellissima spiaggia a puerto rico quindi alla fine riescono a celebrare il matrimonio dei sogni che tanto desideravano we were both so happy my wedding in puerto rico was just magical we got married in a town called isabella and rose right on the beach solo due mesi dopo a gennaio 2006 ray come promesso lascia la pirate investor e decide a di mettersi in proprio e di aprire un'azienda di video making e quando lo comunica a porter lui in realtà la prende molto bene così bene che decide di assumere la sua nuova compagnia per realizzare tutti i video di agora sapete video promozionali cose così quindi ray inizia già da subito a lavorare di nuovo per agora ma questa volta da libero professionista e facendo qualcosa che gli piace questo fino al marzo del 2006 quando finalmente ray e ellison decidono di ritornare in california esattamente come si erano prefissati due anni prima ray adesso lavora da libero professionista in più aveva finito di scrivere la sua sceneggiatura che avrebbe poi proposto ai vari produttori a los angeles quindi tutto stava andando secondo i piani la coppia mette in vendita la casa di baltimora e non appena l'avessero venduta si sarebbero trasferiti peccato che da quel momento in poi ray inizia a comportarsi in modo molto strano ellison racconta che da un certo punto in poi ray diventa teso nervoso paranoico proprio sembra spaventato spaventato da qualcuno o da qualcosa e questi suoi comportamenti effettivamente si accompagnano a dei fatti a delle cose strane che iniziano a succedere proprio in quel periodo ellison racconta che ray non andava più da nessuna parte se non accompagnato da lei per esempio un giorno ellison era andata a farsi una corsa e lui era voluto per forza andare con lei e erano andati in quelle piste avete presente proprio le piste i circuiti in cui la gente corre con intorno tutti gli spalti ecco ellison correva sulla pista da corsa mentre ray era seduto negli spalti quando ad un certo punto un uomo è entrato nel circuito vestito normalmente non era vestito come uno che faceva sport e aveva iniziato a camminare verso ellison e quando ray aveva visto questa cosa si era alzato di scatto e aveva iniziato a correre verso quest'uomo che improvvisamente aveva cambiato direzione ed era andato via ellison gli aveva chiesto spiegazioni ma ray era stato vago e ellison non aveva insistito ma le stranezze non finiscono qui il 15 maggio succede un'altra cosa strana e piuttosto inquietante intorno a luna di notte qualcosa fa scattare l'allarme della casa di ray e ellison ellison si sveglia di soprassalto corre al piano di sotto per capire cosa stia succedendo e lì ci trova ray che era già al piano di sotto e aveva in mano una mazza da baseball già pronto a difendersi ma dopo aver controllato in giro per la casa la coppia non trova nulla di strano ma decidono di chiamare comunque la polizia anche gli agenti controllano in giro per la casa ma non trovano nulla fuori posto quindi dicono alla coppia che probabilmente era stato qualcosa di innocuo a far scattare l'allarme come degli scoiattoli ellison quindi non dà molta importanza a questa cosa se non fosse per lo sguardo direi ellison racconta di non aver mai visto prima di quella notte tanto terrore nello sguardo del marito e questa non è l'unica volta in cui l'allarme della loro casa scatta senza un apparente motivo perché accade di nuovo e accade di nuovo solo la notte successiva il 16 maggio e sempre alla stessa ora luna di notte di nuovo la coppia si alza di soprassalto dal letto e lo sguardo direi è ancora più terrorizzato della notte precedente di nuovo chiamano la polizia e questa volta però ellison nota che una delle finestre del soggiorno della casa è stata in qualche modo manomessa manomessa dall'esterno lei dice come se qualcuno avesse cercato di aprirla ma la polizia anche questa volta non ritiene che ci sia qualcosa di cui preoccuparsi e di nuovo in colpa gli scoiattoli a questo punto però anche ellison è spaventata perché inizia un po a mettere insieme i pezzi l'atteggiamento strano di suo marito nelle ultime settimane l'allarme che suona per due notti di fila considerate che loro hanno vissuto in quella casa per più di due anni e in due anni l'allarme non era mai scattato per sbaglio quindi le coincidenze iniziavano ad essere un po troppe comunque quello stesso giorno siamo sempre al 16 maggio ellison deve fare un viaggio di lavoro della durata di 3-4 giorni quindi deve lasciare rei da solo dopo essere tornati a letto dopo questa cosa dell'allarme immaginate quanto abbiano dormito rei si sveglia molto presto prepara la colazione a sua moglie e l'accompagna alla macchina le dice che la ama ellison ricambia e poi si mette al volante e parte per il suo viaggio rei dopo la partenza di ellison torna in casa e si mette a lavoro aveva da montare dei video per agora quindi prenota una sala di montaggio per il weekend successivo e intorno alle sei del pomeriggio arriva a casa sua a casa direi una donna di nome claudia che sarebbe una collega di ellison che ogni tanto passava la notte a casa loro nella stanza degli ospiti e quella notte appunto l'avrebbe passata lì quindi arriva saluta rei e poi se ne va nella sua stanza e si rilassa sul suo letto ellison intanto è arrivata a destinazione ha lavorato tutto il giorno e la sera intorno alle 6 e 30 7 torna in hotel e telefona a suo marito rei per sapere come stia ma rei non risponde gli lascia quindi un messaggio poi prova di nuovo a richiamarlo ci prova diverse volte ma rei non risponde mai e non richiama e questo è strano perché rei non lasciava mai passare così tanto tempo senza sentirla ma lei si convince che magari rei sia fuori con i suoi amici e non senta il telefono quindi ad un certo punto si mette a dormire convinta che durante la notte lui le mandi almeno un messaggio ma quando ellison intorno alle 5 30 di mattina apre gli occhi e guarda il telefono non c'era nulla non un messaggio non una telefonata e lì le scatta il panico ellison chiama immediatamente la sua collega claudia quella che stava passando la notte a casa loro e le chiede se abbia visto suo marito le chiede di controllare se rei sia in casa ma quando claudia controlla nella camera da letto non solo rei non c'è ma il letto è intatto quindi rei non aveva neanche mai dormito lì claudia però racconta ad ellison una un dettaglio molto interessante ovvero che il giorno prima vi ricordate lei era andata nella sua stanza intorno alle 6 e racconta che intorno alle 6 e 30 aveva sentito qualcosa dalla stanza accanto che era appunto la stanza in cui si trovava rei aveva sentito il cellulare di rei suonare lui aveva risposto e subito aveva esclamato qualcosa aveva esclamato qualcosa tipo oh cavolo oh shit e subito dopo lo aveva sentito uscire di corsa di casa il pensiero che si era fatta claudia era che si fosse dimenticato un appuntamento importante perché era letteralmente corso fuori di casa così com'era in pantaloncini e infradito appunto come se lo avessero chiamato per ricordargli qualcosa di molto urgente peccato che da quella volta non era più tornato a casa ellison quindi riprova a chiamarlo ma questa volta il suo cellulare risulta spento rei vera è ufficialmente scomparso nel nulla e con lui anche la sua macchina rei era uscito in macchina e non era più tornato ellison quindi chiama la polizia e denuncia la sua scomparsa e la famiglia di rei vola immediatamente a baltimora per aiutare nelle ricerche lo cercano ovunque telefonano a tutti gli ospedali della città nel caso in cui abbia avuto un incidente non lo so in macchina o qualcosa del genere ma di lui non c'è nessuna traccia anche il suo amico porter che si trovava fuori città per lavoro torna a baltimora per aiutare nelle ricerche e mette anche in palio mille dollari per chiunque lo ritrovasse ma dopo sei lunghi giorni di ricerche nessuno ancora ha avuto notizie di rei quel giorno quindi siamo al 22 maggio i genitori di ellison che anche loro stavano aiutando nelle ricerche decidono di mettersi in macchina e di girare un po a caso per la città nella speranza di trovare almeno la sua macchina parcheggiata da qualche parte perché non poteva essere scomparsa nel nulla anche quella e dopo un po incredibilmente la trovano la macchina di rei è parcheggiata in un parcheggio di fronte ad un palazzo storico chiamato il belvedere il belvedere originariamente era un hotel un hotel molto prestigioso che adesso è diventato semplicemente un condominio quindi le varie stanze sono state trasformate in tanti appartamenti o uffici inoltre all'interno del belvedere ci sono anche dei bar e dei ristoranti che sono aperti al pubblico quindi ci puoi andare anche se non vivi lì comunque la macchina di rei è parcheggiata lì è vuota ed è intatta non sembra che sia stata rubata quindi probabilmente era stato proprio rei a parcheggiarla lì il giorno della sua scomparsa l'addetto del parcheggio infatti dice di non aver visto chi aveva parcheggiato lì l'auto ma dice che sei giorni prima quando era arrivato la mattina a lavoro l'auto era già lì quindi qualcuno doveva averla lasciata lì durante la sera o la notte precedente quindi proprio quando rei era scomparso ma cosa ci faceva rei in quel posto che motivo aveva di andare al belvedere forse doveva incontrare qualcuno lì una cosa interessante da sapere è che il belvedere è solo a pochissimi isolati da una delle sedi di agora ma proprio a due isolati di distanza quindi chissà magari le cose sono collegate le indagini quindi si concentrano in questo parcheggio e insomma lì nei dintorni e due giorni dopo il 24 maggio tre colleghi direi tutti dipendenti di agora che stavano aiutando a cercarlo decidono di salire sul tetto di un parcheggio che si trova proprio di fronte al belvedere come vedete dalle immagini così che potessero avere una visuale un po più dall'alto questo parcheggio praticamente dava su un altro edificio più basso che era collegato al secondo piano del belvedere e quando i tre colleghi direi si sporgono per guardarsi attorno notano che sul tetto di questo edificio che vi ho appena detto quello collegato al belvedere c'era un buco come se qualcosa di molto pesante ci fosse caduto dentro e avesse spaccato il tetto di questo edificio c'erano anche un paio di infradito un cellulare delle chiavi e degli occhiali da vista i colleghi direi provano subito una sensazione strana perché gli occhiali da vista sembravano proprio quelli direi chiamano quindi le autorità che chiedono ad un dipendente del belvedere di avere l'accesso a quell'edificio e gli chiedono di aprirgli la stanza che c'era all'altezza di quel buco sul tetto che questa stanza era una vecchia sala conferenze ormai in disuso e quando il dipendente del belvedere apre quella stanza la scena che gli si para davanti lo sconvolge così tanto da traumatizzarlo per il resto della sua vita dentro la stanza per terra e in condizioni orribili c'è il corpo senza vita direi rei è disteso a terra in posizione prona quindi a pancia in giù e le sue condizioni sono talmente gravi tra la caduta e la decomposizione ormai avanzata da essere praticamente irriconoscibile è vestito esattamente come era uscito di casa con una giacca i pantaloncini corti e l'è infradito che però non porta i piedi perché come vi dicevo prima vengono ritrovate dai suoi colleghi sul tetto di quell'edificio una da una parte e una dall'altra e vengono ritrovate tra l'altro molto danneggiate come se fossero state trascinate e inoltre una delle due era proprio rotta gli si era strappata la parte superiore la parte che tiene il piede per intenderci a prima vista la cosa sembra abbastanza chiara rei era caduto dall'alto aveva bucato il tetto la tettoia di quell'edificio era caduto in quella sala conferenze e aveva perso la vita ma da dove era caduto ed era caduto lo avevano spinto si era buttato cos'è successo secondo la polizia è molto semplice rei si è buttato quello era un suicidio e diciamo che la polizia non fa un ottimo lavoro in questa indagine c'è chi sostiene che la polizia di baltimora quell'anno fosse particolarmente oberata di lavoro in quanto il tasso di criminalità era salito drasticamente quindi c'è chi sostiene che questo sia il motivo per il quale i detective sono stati molto veloci e approssimativi in questa indagine pare infatti che non abbiano mai rilevato impronte digitali da nessuna parte non hanno isolato la scena del crimine pare non abbiano neanche fatto delle foto alla scena del crimine l'unica cosa che hanno fatto è controllare le telecamere di sicurezza del belvedere per capire se rei sia mai entrato in quel palazzo perché stando a quello che dicono loro l'unica opzione possibile è che rei sia salito sul tetto del belvedere e che si sia buttato giù di lì anche se su questo dettaglio ci torniamo più avanti fatto sta che nelle telecamere di sicurezza del palazzo non c'è traccia direi non c'è traccia direi fuori dal palazzo o dentro il palazzo quindi se si è buttato dal tetto come ci è arrivato e a proposito del tetto del belvedere e le telecamere del tetto che dicono beh amici le telecamere del tetto del belvedere quel giorno non erano attive questo punto non è molto chiaro nel senso che in alcuni articoli c'è scritto che non funzionavano proprio nella puntata di unsolved mysteries che c'è su netflix su questo caso dicono che erano staccate cioè che c'era proprio il cavo staccato mentre invece in un libro di una delle persone che viveva nel palazzo che appunto ha scritto su questa storia questa persona scrive che il filmato in realtà c'era cioè il filmato esiste scrive che questo filmato è stato anche visionato da ellison la moglie di ray ma che sembrava che qualcuno lo avesse manomesso cioè che avesse tagliato alcuni pezzi non so quale di queste tre versioni sia quella corretta fatto sta che non si sa nulla di questo filmato del tetto non si sa se ray effettivamente sul tetto del belvedere ci sia mai salito oppure no oltretutto perché ray avrebbe dovuto togliersi la vita cioè non ha alcun senso non era depresso aveva fatto mille piani per il futuro tolto le prenotazioni lavorative che aveva fatto poco prima di sparire aveva in programma di tornare in california con sua moglie e con la sua nuova sceneggiatura in mano aveva una nuova compagnia che lo rendeva indipendente aveva persino prenotato un viaggio in messico con ellison e sarebbero dovuti partire due settimane dopo e poi vi ricordate il giorno della sua scomparsa la collega di ellison dice di averlo sentito rispondere al telefono e di averlo sentito esclamare qualcosa tipo oh cavolo e poi di averlo sentito volare fuori di casa dubito che quello fosse un oh cavolo ho dimenticato di volermi buttare da un palazzo molto alto cioè non credo proprio tendenzialmente ray ha incontrato una persona quel giorno no chi era quella persona chi ha fatto quella telefonata ebbene quella telefonata viene rintracciata durante le indagini e quello che emerge è che la telefonata proveniva da agora la compagnia per cui ray lavorava in precedenza la compagnia per cui lavora il suo amico porter purtroppo però è stato impossibile rintracciare il telefono esatto da cui è partita perché gli uffici di agora per smistare le telefonate utilizzano un centralino e quindi non sono riusciti a trovare chi abbia effettivamente effettuato la telefonata e ovviamente nessuno si è mai fatto avanti ma questo è comunque interessante perché se vi ricordate il bel vedere il posto in cui è stato trovato ray si trova soli due isolati da una delle sedi di agora potrebbe essere una coincidenza oppure no ma tornando alla caduta di ray facciamo finta che sia davvero salito sul tetto del bel vedere facciamo finta che ci sia salito evitando tutte le telecamere in qualche modo fingiamo che si sia messo il mantello dell'invisibilità di harry potter e che sia andato sul tetto con l'intenzione per qualsiasi motivo di farla finita e di lanciarsi di sotto il punto è che è impossibile allora il tetto del bel vedere ha questa forma che vedete dalle immagini è fatto come una u rovesciata e dal tetto al buco che il corpo di ray ha fatto nell'edificio di sotto ci sono 14 metri è impossibile che sia arrivato fino lì lanciandosi dal tetto del bel vedere ma anche se avesse preso una grande rincorsa prima di saltare sarebbe stato improbabile considerando anche che indossava l'infradito anche se questo è quello che sostiene la polizia ma lo vedremo più avanti quindi da dove altro avrebbe potuto buttarsi un'altra opzione diciamo così potrebbe essere il cornicione dell'undicesimo piano del bel vedere praticamente all'undicesimo piano come potete vedere fuori dalle finestre c'è questo cornicione su cui uno potrebbe camminare ovviamente nessuno ci camminerebbe sopra perché è comunque un cornicione di un palazzo ma facciamo finta che ray sia andato lì con questa intenzione e che lo abbia fatto anche qui è impossibile anzi improbabile ecco in questo caso diciamo improbabile perché a quanto pare tutte le finestre che danno sul cornicione dell'undicesimo piano sono finestre di appartamenti o di uffici quindi ray per uscire da una di queste finestre per camminare sul cornicione e per buttarsi sarebbe dovuto non solo entrare nel palazzo ma entrare proprio in casa di qualcuno o nell'ufficio di qualcuno e buttarsi da lì che appunto non è impossibile ma se fosse così allora vorrebbe dire che qualcun altro è coinvolto perché non è stata presa in considerazione questa cosa e si è passati subito al suicidio e l'unico altro posto da cui si sarebbe potuto buttare è il parcheggio quello su cui erano saliti i suoi colleghi che avevano trovato il buco e le sue infradito vi ricordate ma questa opzione è da scartare subito perché l'altezza è troppo poca sono solo pochi metri quindi ray non avrebbe subito tutti quei danni e forse non sarebbe neanche riuscito a bucare in quel modo il tetto di quell'edificio ci sono altre teorie più fantasiose come per esempio quella dell'elicottero secondo cui ray sarebbe stato ucciso da delle persone che lo hanno buttato giù da un elicottero proprio lì davanti al bel vedere facendolo cadere e facendogli creare quel buco che tra l'altro era un buco piccolissimo significa che lui ci è caduto dentro ad una velocità elevatissima come se fosse un proiettile ma onestamente mi sembra una teoria un po fantasiosa cioè volete dirmi che nessuno degli inquilini del bel vedere ha visto un elicottero volare così in basso e lanciare fuori una persona improbabile comunque al momento questo è la polizia sostiene che sia suicidio ray si è lanciato ma non si sa bene da dove l'autopsia dipinge un quadro devastante ray ha fratture e abrasioni in tutto il corpo e il medico legale determina che le ferite di ray sono compatibili con una caduta dall'alto da una grande altezza presumibilmente da un palazzo di 13 piani ma allo stesso tempo il medico legale stando a quello che dice ellison prima di rilasciare i risultati l'aveva presa da parte e le aveva detto che secondo lei secondo il medico legale che è una donna si chiama melissa brussell secondo lei le fratture alla tibia e alla fibula destra non erano compatibili con una caduta dall'alto secondo lei derivavano da qualcos'altro e per questo nell'autopsia che è pubblica la trovate online se la cercate la dottoressa melissa brussell scrive proprio che ray è morto in seguito ad una caduta dall'alto ma dato che le circostanze riguardanti la sua caduta non sono così chiare e non è chiaro come il deceduto sia precipitato da questa grande altezza la causa della morte verrà classificata come non determinata quindi il medico legale non pensa che sia suicidio e non lo dichiara come tale ma adesso arriva il peggio amici perché ellison chiaramente non si dà pace vuole sapere la verità a tutti i costi non ci dorme la notte e quindi un giorno inizia a cercare mette sotto sopra la casa cercando qualcosa non lo sa neanche lei che cosa sta cercando fatto sta che lo trova trova qualcosa che fa venire i qualcosa che rende questo caso misterioso quanto un film quando si dice che la realtà spesso supera la fantasia trova una lettera una lettera stampata su un foglio piccolissimo in caratteri minuscoli minuscoli tutta ripiegata su se stessa e incollata con dello scotch nel retro del computer fisso dell'ufficio direi l'ufficio che aveva dentro casa vi leggo quello che è stato reso pubblico di questa lettera anzi vi leggo dei pezzi perché è molto lunga e strana cercate di seguirla così magari potrete scrivermi nei commenti che cosa potrebbe mai significare secondo voi perché è inquietante a dir poco e specifico che appunto non è integrale non è mai stata rilasciata per intero quindi in realtà io non so quali siano i pezzi che mancano né dove siano situati all'interno della lettera comunque ve la leggo fratelli e sorelle in questo momento nel mondo i vulcani stanno eruttando che vista meravigliosa virtux junxit mors non separabit che in latino significa ciò che il valore ha congiunto la morte non potrà separare è stato un gioco giocato bene congratulazioni a tutti quelli che hanno partecipato spero che vi sia piaciuto ma era tempo di svegliarsi perciò eccomi qua vorrei dare il benvenuto a quelli che hanno accettato il nostro invito per diventare membri durante il gioco non avremmo potuto farcela senza di voi ho preso questo impegno per scoprire la verità ma non per il suo valore intrinseco accettando questa ricerca della verità speravo di diventare con l'aiuto degli altri un uomo di valore e pronto a riceverla davanti a voi c'è un uomo che comprende lo scopo e il valore dei nostri segreti e per questo che li custodisco come segreti membri del consiglio sappiate che presterò attenzione accurata alle responsabilità tradizionali alla luce di questi procedimenti e soddisferò la richiesta standard di questo consiglio entro il tempo appropriato ancora una volta grazie a tutti quelli che hanno partecipato mi aspetto che il consiglio abbia invitato tutti i giocatori che hanno sacrificato le loro vite per questa ricerca affinché possano unirsi a noi qui dopo aver scritto queste cose sul foglio c'è una lista di nomi tra cui si leggono thomas hickling rayburn stanley kubrick joan tellini e altri nomi che non si leggono e poi continua scrivendo prima che continui con le mie istruzioni al consiglio e che reclami il premio per il mio servizio vorrei concedere a porter stansbury di reclamare il suo premio ora porter non sprecare queste parole reclamando qualcosa che mi riprenderò ora che il gioco è finito mi aspetto che il consiglio ricompensi coloro che hanno dedicato tempo e talento a questa impresa insieme a me questi giocatori dovrebbero essere resi cinque anni più giovani dal consiglio e qui mette la lista di questi giocatori che il consiglio dovrebbe rendere cinque anni più giovani questa lista è lunghissima ci sono un sacco di nomi e tra questi riconosciamo il nome di suo padre di sua madre di suo fratello e anche di ellison sua moglie oltre a loro ci sono anche tanti altri nomi e tutti sono nomi di persone che lavorano insieme a lui in agora e nomi dei familiari di queste persone e poi scritto a parte separato da uno spazio rispetto alla lista di nomi c'è il nome di porter stansbury e accanto al suo nome c'è scritto tra parentesi sempre che non lo abbia già fatto lui da solo non si sa che cosa sempre che non si sia reso più giovane di cinque anni da solo la lettera continua così fratelli e sorelle la nostra terra ha visto molte idee trasformarsi in nuove innovazioni da quando il mio gioco è iniziato e sottoscrive una lista di cose che presumibilmente sono le innovazioni di cui parla quindi le innovazioni che la nostra terra ha visto da quando il gioco direi è iniziato e questa lista è veramente lunga e stramba perché nel mezzo di questa lista ci sono cose come il progetto genoma umano i lettori musicali portatili e non il sudoku la clonazione il wifi i cd il dvd il viagra e i farmaci simili lo xanax internet ethernet l'invisalign e la chiesa unitariana e poi continua scrivendo l'un per cento dei diritti dei brevetti e degli introiti derivanti da tutti loro dovrebbero ormai essere stati trasferiti a me cioè quindi lui sta dicendo che l'un per cento dei diritti dei brevetti di queste innovazioni quindi del genoma umano della clonazione del wifi dell'internet rei scrive che l'un per cento degli introiti di queste cose per qualche motivo è stato trasferito a lui e continua scrivendo so che il nostro ospite porter stansbury ha creato un modo per farlo quindi per fare questi trasferimenti per organizzare future transazioni dovreste farmi visita presso una qualsiasi delle proprietà delle quali mi riprenderò il controllo la mia residenza primaria che include una splendida proprietà nel nord dell'argentina e mi dicono la più grande villa buenos aires ben fatto porter in europa potrete trovarmi a casa a nizza o a madrid anche se se sono in spagna probabilmente sarò sulla costa in asia potrete trovarmi in thailandia un altro lavoro ben fatto porter terrò le due case a los felis in california e quella san francisco anche se cercherò una nuova residenza baltimora e forse in altre città e poi cambia argomento completamente e scrive mi piacerebbe menzionare brevemente alcuni film libri e musica che ho trovato molto ispiranti e avvincenti mi piacerebbe incontrare chiunque di voi abbia contribuito a queste opere e poi inizia la lista di film anche qui ve ne metto solo alcuni perché ce ne sono tantissimi e nella lista c'è matrix 1 2 3 the family man il codice da vinci eyes wide shut vi presento joe black minority report star wars 1 2 3 il signore degli anelli 1 2 3 fight club 7 the game esser john malkovich e poi scrive e nello specifico mi aspetto che amnai shiamalan continui a sfornare grandi idee e fare grandi film a me sono piaciuti moltissimi questi suoi film why the wake il sesto senso the village the others signs e unbreakable anche a me re anche a me sono piaciuti quindi lui si rivolge direttamente in questa lettera a chi ha contribuito alla realizzazione di questi film che sono alcuni dei film più famosi al mondo e si rivolge direttamente anche al regista shiamalan che è il regista del sesto senso e poi continua scrivendo vorrei anche menzionare kit richards hai fatto una buona strada amico ma ciò che è mio è mio il gioco è finito il fatto è stato compiuto è ora di chiudere gli occhi e dormire kit richards per la cronaca è il chitarrista dei rolling stones e poi conclude con vi lascio con una frase che aiuta a dare significato al gioco il progresso umano è la nostra causa la libertà di pensiero il nostro desiderio libertà di coscienza la nostra missione e garantire uguali diritti a tutte le persone ovunque il nostro obiettivo finale prendetevi cura di voi e godetevi le festività ok quindi questa è la lettera che ellison trova scocciata e nascosta dietro il computer di suo marito subito dopo che quest'ultimo è stato trovato morto in circostanze misteriose ve lo immaginate la prima cosa che ellison fa è andare su google a scrivere la frase in latino che c'era scritta sulla lettera e praticamente uno dei primi risultati che le viene fuori collegato a questa frase è la massoneria ma che cos'è la massoneria la massoneria sarebbe una società segreta spesso descritta come una fratellanza infatti i membri si chiamano tra loro fratelli e sorelle esattamente come rei fa nella sua lettera che promuovono valori come appunto fraternità uguaglianza libertà di pensiero la massoneria ha origini antichissime nasce pensate addirittura nel medioevo quando i costruttori di cattedrali e altri mestieri artigianali organizzavano delle corporazioni per proteggere i loro interessi e i loro segreti professionali nel tempo poi la massoneria si è evoluta in una vera e propria società segreta volta a promuovere principi appunto di fratellanza di tolleranza e di progresso individuale gli obiettivi dichiarati dalla massoneria includono spesso la promozione dell'illuminismo la diffusione di valori etici e morali e il sostegno alla libertà di pensiero e di espressione o meglio questo è quello che troviamo scritto online fondamentalmente perché la massoneria nel tempo è stata circondata da miti e leggende soprattutto per via delle loro pratiche rituali e per i simbolismi che la circondano ancora oggi è oggetto di numerose teorie del complotto e insomma è un argomento molto ampio e complesso non vorrei dilungarmi troppo su questo adesso ma volevo darvi un'infarinatura generale per farvi capire quante cose in comune ci sono effettivamente tra quello che c'è scritto nella lettera direi e la massoneria inutile dirvi che di questa lettera nessuno è mai riuscito a capirci nulla quando ellison ha dato la lettera all'fbi loro hanno solo determinato che non si trattasse di una lettera d'addio e vabbè fin lì ci arrivavamo anche noi ma oltre questo il nulla o meglio ci sono le persone su internet che tentano di decifrare questa lettera da anni ormai come se fosse scritta in codice e le teorie che ne sono venute fuori sono sicuramente interessanti ma fantasiose mi viene da dire ma ne parliamo tra un attimo è sicuramente interessante il fatto che tutti 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 i nomi presenti su questa lettera siano di persone o collegate a persone che lavorano dentro agora e un'altra cosa piuttosto inquietante è che nella prima lista di nomi che rei scrive ovvero thomas hicklin rayburn stanley kubrick e john tellini e appunto poi ce ne sono altri ma non si leggono ebbene queste persone sono tutte collegate tra loro da una cosa ovvero al momento in cui rei ha scritto questa lettera queste persone erano già tutte morte thomas hicklin sarebbe un ex dipendente di agora deceduto in un incidente d'auto nel dicembre del 2005 rayburn pare sia una parente di un dipendente di agora deceduta anche lei nel dicembre del 2005 stanley kubrick vabbè è il famosissimo regista morto anche lui nel marzo del 99 e oltretutto la sua morte aveva scatenato parecchie teorie del complotto perché era avvenuta pochissimo tempo dopo la realizzazione del suo film eyes wide shut film che parla di società segrete e che rientra nella lista di film che che rei stila nella sua lettera e infine abbiamo questa john tellini anche lei pare fosse la mamma di un dipendente di agora e anche lei è deceduta nel novembre del 2002 e ci sono tantissime altre cose di questa lettera di cui sinceramente starei qua a parlare per ore e ore tentando di capire che cosa vogliano dire ma prima di passare alle teorie finisco di raccontarvi cosa sappiamo per certo su questa storia come per esempio ma che fine ha fatto l'amico di rei porter che viene menzionato tantissime volte nella lettera di rei che cosa pensa lui di questa storia beh l'episodio di unsolved mysteries ci fa sapere che nonostante all'inizio porter abbia collaborato con le autorità da quando è stato trovato il corpo di rei in poi si è letteralmente dileguato anzi non solo si è dileguato ha proprio chiamato un team di avvocati e ha fatto mettere un gag order quindi un divieto di divulgazione sull'intera compagnia agora e si è sempre rifiutato di parlare con la polizia che a quanto pare non ha potuto fare nulla anche perché comunque porter non è mai stato un sospettato nel caso di base perché la morte di rei non è mai stata ufficialmente dichiarata uno video quindi fino a quel momento non possono esserci sospettati porter dalla sua però nega questa cosa dice che non è vero che il documentario netflix lo ha dipinto malissimo e che invece lui ha sempre collaborato con le autorità e sostiene anche che non è possibile che la chiamata che rei ha ricevuto il giorno della sua scomparsa provenga dagli uffici di agora perché quel giorno lui e tutti i suoi dipendenti erano fuori città peccato che appunto la chiamata è stata rintracciata come vi dicevo ed è stata effettuata da agora magari non dagli uffici di porterne lo specifico ma comunque da uno degli uffici di agora pare inoltre che lo stesso giorno sul cellulare di rei siano arrivate altre cinque chiamate da parte dello stesso numero chiamate a cui lui non ha risposto probabilmente perché era già morto ora non ci resta che vedere insieme alcune delle teorie su cosa possa esserci dietro la morte misteriosa direi la prima come vi dicevo riguarda la massoneria questo è scontato perché ellison stessa ha collegato la massoneria alla lettera di suo marito ci sono effettivamente tante cose in comune rei scrive che appunto il loro obiettivo è il voler arrivare alla verità ebbene come vi dicevo la massoneria ha spesso associato se stessa con l'idea di cercare la verità sia a livello personale che sociale e poi nella lettera parla di un gioco io non ho potuto farà meno di pensare al film the skull non so se lo avete mai visto ma praticamente nel film joshua jackson deve entrare in una società segreta ma per farlo deve superare delle prove e praticamente c'è qualcuno che gli telefona all'improvviso a qualsiasi ora del giorno della notte e quando questa persona chiama gli dice cose come che ne so ai 25 secondi per arrivare alla cabina telefonica in fondo alla strada e lui deve scattare e correre velocissimo per arrivarci e mi ci ha fatto pensare sia il modo in cui è uscito di corsa il giorno della sua scomparsa dopo quella telefonata sia quello che scrive nella lettera quando scrive membri del consiglio sappiate che soddisferò la richiesta standard di questo consiglio entro il tempo appropriato quindi fa intendere che lui debba fare qualcosa per i membri del consiglio e che sia una sorta di prova entro un tempo stabilito e quindi non ho potuto far a meno di pensare ad una fantomatica telefonata del tipo che ne so ai 20 minuti per andare al belvedere e per camminare sul cornicione dell'undicesimo piano cosa che potrebbe averlo portato ad un'esclamazione del tipo oh cavolo ma sicuramente è un viaggio mio sicuramente guardo troppi film ma a proposito di film c'è un'altra delle tante teorie su questo caso che riguarda proprio uno dei film presenti nella lista direi ovvero the game in questo film il protagonista michael douglas riceve come regalo da parte di una società un gioco e inizia a vivere una serie di eventi surreali e spaventosi che sembrano orchestrati proprio da quella stessa società e alla fine del film il protagonista dopo tutti questi eventi drammatici che ha vissuto nel corso del gioco decide di salire in cima ad un palazzo e di buttarsi di sotto inaspettatamente però al di sotto cioè al di sotto del palazzo c'era un enorme cuscino gonfiabile che gli salva la vita e viene fuori che anche questa cosa faceva parte del gioco quindi anche secondo questa teoria rei per qualche motivo avrebbe ricreato questo film o sarebbe stato costretto a ricreare questo film e a buttarsi dal palazzo solo che ad aspettarlo purtroppo non c'era un cuscino gonfiabile questa teoria mi sembra però davvero un po un po fantasiosa un po poco realistica c'è ovviamente la teoria secondo il quale rei avrebbe scoperto qualcosa di scomodo su agora e che quindi sia stato fatto fuori da qualcuno di loro vi ricordate nelle settimane precedenti alla sua scomparsa lui era diventato paranoico aveva paura e succedevano cose strane uomini che si avvicinavano a sua moglie gli allarmi che suonavano la notte in casa sua e tra l'altro uno degli allarmi è suonato proprio la notte prima della sua scomparsa quindi forse c'era qualcuno che lo minacciava forse avevano minacciato di fare del male a sua moglie e per questo lui non voleva andare da nessuna parte senza di lei e forse alla fine lo hanno eliminato ovviamente non si sa è solo una teoria e infine c'è l'ultima teoria quella che potrebbe essere la più triste ma la più credibile di tutte quella del disturbo mentale il principio di occam ci insegna che la soluzione più semplice è quella più probabile e in questo caso forse la soluzione più semplice potrebbe essere che rei non stesse bene che avesse un disturbo mentale di cui nessuno si era mai accorto che poi questa è la teoria formulata dall'fbi cioè questa non è una teoria e l'opinione dell'fbi che ha rilasciato anche un documento su cui attesta che rei rivera abbia avuto un episodio psicotico scrivono che la persona che ha scritto quella lettera probabilmente soffriva o di un disturbo delirante persecutorio o del disturbo bipolare non trattato o addirittura di schizofrenia pensano che il disturbo mentale di cui probabilmente soffriva rei possa essere passato inosservato alla moglie e ai familiari e probabilmente anche a rei stesso fino a quando non ha avuto questo crollo c'è scritto anche che hanno ragione di pensare che si sia buttato volontariamente perché pare che in passato lui e ellison siano stati sul tetto del belvedere per guardare insieme il tramonto e il giorno della sua scomparsa quando è uscito di casa di corsa l'ultima cosa che ha fatto sul suo computer quindi che è stata trovata è stata una ricerca su google in cui controllava a che ora il sole tramontava quel giorno scrivono anche che secondo le loro analisi forense e secondo uno studio ingegneristico se rei che era un uomo molto atletico avesse preso una lunga rincorsa correndo alla velocità di 17 chilometri orari avrebbe anche potuto lanciarsi e cadere lì dove hanno trovato il buco cioè secondo loro ci sarebbe arrivato nonostante la grande distanza quest'ultima teoria non convince molta gente a partire da ellison sua moglie che sostiene che rei non avesse nessun problema mentale è vero che nelle settimane precedenti alla scomparsa si comportava in modo strano ma come abbiamo visto c'erano dei motivi reali l'allarme suonato due volte quell'uomo strano anche se potrebbe anche essere che sia tutta una coincidenza cioè magari quell'uomo sulla pista da corsa non era nessuno e magari l'allarme è suonato davvero per sbaglio questo caso mi ricorda un po quello di elisa lam intorno al quale si erano costruite tantissime teorie ridicole alcune anche paranormali e alla fine la ragazza soffriva di un grave disturbo bipolare che non stava più curando e questa è stata la vera causa della sua morte una causa triste dura fredda semplice sicuramente meno interessante passatemi il termine delle teorie del complotto e di quelle paranormali e non posso negare che questo caso non sia davvero molto interessante e ammetto che io stessa ho pensato seriamente alla possibilità che ci fosse una realtà contorta segreta massonica dietro anche perché lo abbiamo visto queste società per cui porter lavorava sono tutte un po strane un po losche per questo mi sono dilungata e ve ne ho voluto parlare perché chissà potrebbe anche essere che ci sia una verità torbida dietro la morte direi d'altronde vi ricordate nel corso del video vi ho raccontato di quella truffa di gold corp che trasformava la sabbia in oro in cui il presidente è stato trovato morto con una pallottola alla testa e appunto non si era capito se fosse un suicidio o un omicidio e anche in quel caso era comunque tutto collegato ad agora ma non possiamo non ammettere che è possibile anche che la verità sia più semplice e lineare forse rei non stava bene forse stava davvero avendo un episodio psicotico forse la chiamata che ha ricevuto che gli ha fatto esclamare o cavolo non era nulla di che magari lui l'ha vissuta nel modo in cui per il suo cervello in quel momento aveva senso e questo noi non lo possiamo capire cioè non lo possiamo neanche immaginare che cosa gli sia passato per la testa se davvero stava avendo un episodio psicotico comunque amici sono davvero curiosa di conoscere la vostra opinione lasciatemi un commento con scritto secondo voi che cosa è successo a rei secondo voi che cosa significa quella lettera pensate ci sia un significato dietro o pensate che sia il frutto di appunto una sua realtà distorta mi raccomando siate gentili nei commenti sia nei miei confronti sia nei confronti di tutti in generale siate gentili sull'internet fuori dall'internet e per il video di oggi è tutto io come al solito vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video ciao